3 gennaio ore 18 e 18 siamo però nel 2009 e non a caso questo video è uscito esattamente 14 anni dopo la nascita ufficiale di bitcoin viene infatti mintato in questo esatto momento 14 anni fa il primo blocco il blocco genesi oggi siamo circa al 770 mila momento in cui sto registrando questo video però vedete quella del 3 gennaio non è la data più importante di oggi ci spostiamo infatti in arizona stati uniti circa 5 anni e mezzo dopo e il 28 agosto 2014 e alle ore 8 e 50 viene dichiarato deceduto il paziente 128 il paziente ha scelto l'opzione full body per essere criogenato la cosa interessante è che parte dei costi di questa criogenazione è stata pagata in parte dall'assicurazione ed in parte da anonimi donatori in bitcoin stiamo parlando dell'azienda Alcor che si occupa appunto di criogenare i corpi in attesa che la scienza scopra un modo per scongelare e riportare in vita queste persone e il paziente 128 risponde al nome di Al Finney ad oggi la persona più vicina a Satoshi Nakamoto se non addirittura Satoshi Nakamoto stesso buongiorno a tutti dottori qui Marco Costanza per chi non mi conosce sono un ragazzo che un anno fa ha fatto una minchiata quella di essersi licenziato dal posto fisso, posto statale, mannaggia a me per intraprendere una carriera da freelancer, da youtuber, da divulgatore di cosa? Finanza e prettamente durante quest'anno mi sentirete parlare molto di bitcoin cosa che a fine 2022 stavo già entrando proprio nel vivo dell'azione qui trattiamo quindi di finanza, parlo ogni tanto anche di produttività sono un maniaco del miglioramento e oggi tenetevi forte perché il video del quale parleremo oltre a raccontare un po' la storia di Al Finney sarà molto importante perché conterrà anche un'iniziativa benefica alla quale tutti potrete partecipare senza nemmeno partecipare economicamente ma solamente correndo andiamo a scoprire come tutto questo è possibile e soprattutto perché allora partiamo con il capire chi era questo Al Finney beh penso che il modo più facile, veloce e d'immediato per dimostrarvi quanto è importante questa persona è di farvi vedere questo tweet una settimana dopo il lancio di bitcoin Al Finney è la seconda persona dopo Satoshi Nakamoto ad aver eseguito il software di bitcoin ma non solo è stata anche la prima persona ad aver ricevuto proprio da Satoshi Nakamoto una transazione ne ho parlato molto bene in quest'altro video che trovate qua in alto in teoria dove racconto tutta la storia di bitcoin dall'inizio alla fine e vi spiego anche qual è stato il ruolo di Al Finney nello sviluppo di bitcoin perché dovete sapere che all'inizio quando Satoshi Nakamoto ha rilasciato il white paper verso la fine del 2008 erano tutti molto scettici e solamente Al Finney fu quello che gli diede retta e lo aiutò proprio concretamente a risolvere i bug nel codice e a deploiarlo all'intera umanità tra l'altro Al Finney è anche inventore della reusable proof of work quindi era una persona che si è data molto da fare in questo ecosistema della criptografia e all'interno della mini list cypherpunk ma mi raccomando ti lascio il video lo trovi anche qua sotto in descrizione dove puoi seguire tutta la storia di bitcoin diciamo la storia più recente dal 1980 fino poi al 2009 quando è stato lanciato Al Finney nasce il 4 maggio 1956 in California e si dedica prettamente a studi informatici da prima inizia una carriera come sviluppatore di videogiochi ed in seguito entra in una società chiamata PGP PGP sta per Pretty Good Privacy e PGP Corporation è un'azienda che si occupava di sviluppare sistemi di criptografia il sistema più famoso per l'appunto PGP inventato da Phil Zimmerman con i nomi non sono molto bravo comunque questo PGP non è tanto un sistema per criptografare è il sistema per criptografare dati comunicazioni ed infatti è utilizzato principalmente nei servizi mail ma in tantissime altre cose della nostra quotidianità il sistema inventato da Phil Zimmerman in collaborazione con Al Finney viene utilizzato appunto quotidianamente sta di fatto che la sua passione per la criptografia e anche i suoi ideali di vita lo portano ad entrare nella mailing list dove nel frattempo bitcoin stava prendendo vita e dobbiamo sottolineare quanto importante il suo apporto e quanto visionaria era questa persona cioè già nel 2009 praticamente appena bitcoin è stato lanciato già si era reso conto che bitcoin necessitava di più privacy infatti qua vediamo un suo tweet dove diceva bisogna trovare altre soluzioni per avere più privacy su bitcoin ma era già anche preoccupato praticamente all'inizio dei problemi legati all'emissione della CO2 che un utilizzo massivo di bitcoin poteva portare dopo vi citerò alcune sue frasi prese direttamente dal bitcoin talk forum quindi un forum dove scrivevano praticamente all'inizio tutti i bitcoiner e ci sono delle cose che vi lasciano sconcertati anche una sua previsione di prezzo di quanto sarebbe potuto arrivare bitcoin se l'utilizzo fosse stato massivo ed è in questi anni mentre bitcoin sta nascendo che a Dalfinney viene diagnosticata la SLA una malattia che 5 anni dopo nel 2014 lo porta al decesso ma andiamo un attimo a capire bene perché questa cosa è importante oggi la SLA, acronimo di sclerosi laterale amiotrofica è una malattia neurodegenerativa progressiva minchia è stato uno scioglilingua riuscire a dire tutte queste cose di fila senza sbagliare che conduce alla paralisi dei muscoli anche quelli respiratori ed è per questo che solitamente da quando viene diagnosticata nel giro di 2-5 anni porta inevitabilmente alla morte per capirci è la stessa malattia che aveva Stephen Hawking allora visto che mi sono letto un attimo come funziona ve lo spiego nel nostro corpo abbiamo dei motoneuroni che sono delle cellule che servono praticamente a passarsi i comandi per far muovere i muscoli ma tutti i tipi di muscoli volontari quindi parliamo anche quelli proprio della deglutizione della fonazione e anche della respirazione ed è per questo che nel giro di questi anni 2-5 anni pian piano tutti i muscoli collassano non riuscendo più a muoversi e di conseguenza per insufficienza poi respiratoria non si riesce più a vivere questi neuroni inviano dei messaggi l'un l'altro come se fossero collegati quindi portano il messaggio dal cervello fino al muscolo il problema in chi ha la SLAM è che questi canali di comunicazione nei quali poi i vari neuroni scambiano questi messaggi si deteriorano e quindi non c'è più uno scambio di messaggi tra il cervello e il muscolo ed è questo il problema di questa malattia al quale ad oggi non si è ancora trovata una cura e ne parliamo perché anche in Italia ci sono circa 7000 persone affette da questa malattia che non avendo una cura le uniche cose disponibili sono diciamo dei farmaci che possono rallentare un po' il decorso di questa malattia ma soprattutto delle terapie diciamo così sostenitive cioè che aiutano il paziente soprattutto per quanto riguarda la fase di fisioterapia la terapia del linguaggio la psicoterapia e nel caso anche la terapia occupazionale perché non è raro che questa malattia porti anche poi a delle disfunzioni proprio nel cervello non potendo più riuscire a controllare gli altri muscoli e qui arriviamo al cuore di questo video quale miglior occasione infatti se non l'anniversario di bitcoin per questa iniziativa lanciata dalla moglie di Al Finney stiamo parlando di Fran Finney trovate questo tweet sul profilo ufficiale di Al Finney di Twitter vi lascio ovviamente sempre tutto in descrizione ed insomma è stata organizzata questa raccolta di beneficenza proprio per donare alla ricerca contro la SLA che purtroppo non avendo grossi interessi economici in mezzo al momento non ha chissà quali diciamo così motivazioni per trovare una cura la cosa bella però di questa iniziativa è che ho detto cavolo dobbiamo riuscire a integrare un po' il tutto voi sapete che io sono un malato della corsa e questa iniziativa quindi è perfetta l'iniziativa si chiama Running Bitcoin esattamente come il primo tweet che fece Al Finney e quindi se da una parte sul lato economico ognuno può partecipare come meglio crede anche qua vi lascio i link in descrizione di tutto quanto la pagina ufficiale, il sito eccetera eccetera ovviamente è possibile donare sia in dollari che in bitcoin hanno organizzato anche una mezza maratona collettiva cioè Al Finney proprio durante il 2009 quindi quando gli è stata diagnosticata si stava preparando per la maratona e lui era solito proprio correre le mezze maratone era diciamo la sua distanza preferita così ha deciso Fran Finney di creare questa iniziativa dove oltre a donare eccetera eccetera si può fare anche questa corsa simbolica e poi condividere sui social con i vari hashtag ve li lascio qua ognuno di noi può partecipare diciamo cercando di portare questo messaggio un po' più in giro cioè di condividerlo e di raggiungere più persone possibili quindi è vero che bitcoin è una cosa di pochi però invece la possibilità di aiutare persone affette da questa patologia invece può essere una gran cosa e qui a Costanza gli è venuta un'idea carina visto che sono un grande appassionato di bitcoin visto che comunque mi piace fare beneficenze visto che amo la corsa ho deciso di creare un gruppo su Strava vi lascio qua il QR code da scansionare per scaricare l'applicazione e una volta scaricata se riscansionate quel codice o comunque lo trovate giù in descrizione mi potrete aggiungere agli amici perché far questo? perché ho creato un gruppo nel quale raccoglieremo tutti i chilometri anzi per meglio dire i metri fatti dalla nostra community sommerò tutti i metri che la nostra community ha fatto e donerò l'equivalente in satoshi quindi per fare un calcolo facile se 50 persone, 50 di noi fanno 10 chilometri farò 50 persone per 10.000 metri cioè 500.000 satoshi e quindi donerò quella cifra in beneficenza così voi potrete partecipare non per forza dovendo fare una donazione economica ma semplicemente portando in alto questo messaggio e comunque facendo una cosa che fa bene cioè provare a fare una mezza maratona ora, sull'applicazione ho messo che è possibile sia fare corsa che camminata non è obbligatorio fare per forza 21 chilometri potete farne anche uno solo l'importante, quello che vi chiedo è se ci tenete diciamo un po' a questo contesto quindi se siete dei bitcoiner e soprattutto se volete fare diciamo così del bene che non fa mai male allora vi chiedo solamente una volta che fate queste cose qua di andare su Twitter o su Instagram o dov'è e taggare, se siete su Twitter la pagina Twitter di Running Bitcoin Challenge utilizzare l'hashtag Running Bitcoin Challenge e l'hashtag SLA non dovete taggare me non dovete far vedere niente dove ci sono io di mezzo l'unica cosa che dovete fare con me è entrare sull'app di Strava così possiamo sommare i chilometri questa iniziativa è valida dal primo al 10 di gennaio quindi io ho messo la challenge valida fino al 9 il 9 chiuderemo tutto e poi sommerò i metri che la nostra community è riuscita a raccogliere insomma direi che mi pare una bella iniziativa e un buon modo per mischiare tutti quelli che sono i miei ma credo anche i vostri interessi prima di salutarci però voglio ancora raccontarvi qualche chicchetta su Alfinney che ho trovato online allora tra le prime curiosità vi voglio citare alcuni pezzi che ho trovato su Bitcoin Talk di cose che ha scritto Alfinney dovete sapere che appunto verso fine 2013 quando la malattia ormai l'aveva praticamente paralizzato totalmente quindi anche lui parlava solamente tramite un eye tracker cioè tramite dei sistemi che riconoscevano il movimento degli occhi ha scritto un lungo post su Bitcoin Talk e vado a prendervi alcune frasi che ha citato che secondo me sono molto caratteristiche conviene sempre io vi lascio tutti i link tutti i riferimenti in descrizione però allora ecco alcune delle cose principali che mi hanno colpito di più Bitcoin funzionava in modo abbastanza stabile quindi l'ho lasciato in funzione vi ricordo che lui è stato il primo dopo Satoshi a lanciare Bitcoin e a farlo girare sul suo computer erano giorni in cui la difficoltà era pari a uno e si potevano trovare blocchi con una normalissima CPU cioè quindi con un normalissimo computer vi ricordo che ogni blocco di Bitcoin minato durante quegli anni lì dava 50 BTC di reward quindi circa 50 Bitcoin ogni 10 minuti di mining wow nei giorni successivi ho estratto diversi blocchi ma ho deciso di spegnerlo perché il computer si surriscaldava e il rumore della ventola mi dava fastidio col seno di poi avrei voluto continuare più a lungo ma d'altra parte sono stato straordinariamente fortunato ad essere lì fin dall'inizio e una di quelle cose da bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto e poi all'inizio del 2009 ero nella mia forma migliore avevo perso molto peso e avevo iniziato a correre avevo corso diverse mezze maratone e stavo iniziando ad allenarmi per una maratona completa è stato allora che mi è stata degnosticata la SLA sta cosa un po' non so fa effetto passiamo dopo nel 2010 ho visto che Bitcoin stava avendo un reale valore nel mondo così ho rispolverato il mio vecchio wallet e ho visto con sorpresa che i BTC erano ancora lì li ho inseriti in un wallet offline come eredità per i miei cari mio figlio e mia figlia sono bravi con la tecnologia quindi sono abbastanza sicuro che sapranno come gestirli ma signori ma signori se queste erano le frasi di Al Finney c'è una curiosità che mi ha lasciato stupito e dico cavolo guarda come tutto poi torna indietro come tutto si chiude il cerchio sapete che Al Finney si è fatto criogenare all'interno di un'azienda chiamata Alcor bene nel consiglio di amministrazione di questa azienda c'era un certo Ralph Merkel beh giustamente voi dite chi diavolo è non l'ho mai sentito e come cosa ci sta ma vi dico solo che è stato praticamente uno dei pionieri della crittografia a chiave pubblica è l'inventore del Melkler Root cioè il sistema che tutt'oggi bitcoin utilizza per validare i propri blocchi per creare la catena dottori per questo video è tutto spero di avervi fatto scoprire una persona che magari più nuovi del settore bitcoin ancora non conoscevano e di avervi anche fatto scoprire un'iniziativa comunque interessante io sinceramente appena l'ho scoperto ho dovuto per forza parlarvene cioè è stato tutto perfetto bitcoin la corsa il fare del bene e quindi insomma spero che appreziate questa iniziativa mi raccomando conto su di voi per fare tanti tanti metri non troppi non troppi cioè adesso non mi fate spendere un bitcoin in beneficenza per favore anche perché ancora lo devo accumulare quindi qualcosa fatemi tenere però mi raccomando condividetelo con quante più persone possibili cioè non per forza questo video anche solo il semplice fatto che c'è questa iniziativa e insomma dai uniamo un po' tutte le nostre passioni facciamo del bene che verrà ricambiato verrà ricambiato ne sono sicuro dottori e dottoresse grazie mille per l'attenzione noi ci vediamo prossimamente con nuovi entusiasmanti video e ah tra l'altro non mi sono dimenticato che il video precedente vi avevo chiesto di raggiungere 100 like li abbiamo raggiunti sto preparando il video numero 2 non temete adesso ci vorrà un attimo ma lo stiamo preparando grazie mille a tutti grazie per il supporto buona giornata e buon anniversario bitcoin a tutti a presto ciao a tutti a presto ciao a tutti ciao a tutti